Lui si chiama Ippo e noi siamo la prima televisione a riprenderlo a solo quattro giorni ed è un mix, è il figlio di un'asina del monte Amiata e di una zebra, ospitati in un vivaio che sta alle porte di Firenze in via del barco. Pensate ci sono al mondo solamente tre esemplari di questa razza nuova che si chiama John Kane. Ci siamo accorti che era rimasta incinta perché la zebra era riuscita a aprire il paletto dove stava l'asciuca e nulla, si è introversa dentro e ha fatto la voce affrettata. Si sono innamorati. Si sono innamorati, si sono innamorati e dopo 12 mesi ci siamo accorti, io pensavo fosse un ciucco, invece no. E' venuto fuori questo esemplare che non sapevo nemmeno come si chiamasse perché tramite internet abbiamo visto che si chiamava John Kane, il terzo animale nel mondo che esiste da noi. Che specie ci sono qui? Allora noi abbiamo appunto dei sciuchi della Amiata, poi abbiamo delle caprette tibetane, poi abbiamo degli emu, poi abbiamo delle cicogne, poi abbiamo diciamo quello che sono ancora più innamorato di tutti che sono due cammelli. Sì, al maschio gli abbiamo dato il nome Canapone perché a Firenze avevamo Canapone e è rimasto il nome, mi piaceva Canapone e gli abbiamo messo il nome Canapone. Ma qui come mai ci sono così tanti animali? Eh perché siamo abbastanza innamorati di questi animali e quindi abbiamo iniziato con un cavallo che l'ipodromo a fine carriera mandava a macello, ci siamo appassionati quindi abbiamo preso lui e poi è da lì in avanti con tutti gli altri animali che ci ha portato alcuni, tipo l'asinello della Amiata appunto l'abbiamo preso dalla forestale, tutti i vari animali, poi ci sono stati portati alcuni dalle persone, alcuni da sequestri di animali che non erano tenuti regolarmente eccetera. Chissà in quanti ora vi faranno un po' la corte per questo esemplare? Sì tantissime persone ci hanno telefonato, vogliono venire a vederlo, poi c'è chi lo vorrebbe acquistare, vorrebbero venire a acquistarlo ma non si vende perché anche se mi offrissero una grandissima cifra come i giocatori di calcio, no non lo vendo perché è troppo interessante, poi mi piace, sono innamorato di tutti i miei animali, la faccio per passione e rimarrà qui.